Un anno e mezzo fa, insieme al mio partner, Matteo Pittaluga, abbiamo deciso di innovare il mondo dell'insegnare digital marketing alle persone normali per farle diventare straordinarie con questo grande mezzo che è il marketing digitale. E quindi abbiamo fondato una community che oggi conta più di 17.000 persone e si chiama marketing genius e questa community abbiamo coinvolto altri professionisti, qui ce n'è uno già di siena, altre persone che potessero dare gli strumenti pratici a una persona normale che avesse un'idea ma non sapesse la mappa per passare dal punto A dove si trova, dove sente il fuoco dentro, andare al punto B e quindi il digital marketing è stata l'arma segreta. Per questa ragione oggigiorno aiutiamo centinaia di persone a migliorare la propria vita con il digital e lo facciamo assieme a grandi professionisti.